Si è tenuta a Pesaro, presso la sede di Confindustria, all'interno del progetto di Pesaro 2024 Incontri Capitali, la presentazione del libro Sogni e illusioni di libertà, di Patrick Zaki, il ricercatore dell'Università di Bologna e attivista per i diritti umani di origine egiziane, che è stato detenuto per 20 mesi nel suo paese d'origine. Una sala strapiena, che ha visto centinaia di persone che non sono riuscite ad entrare, rimanere fuori ad attenderlo, anche solo per un saluto. Ad anticipare il tutto, nella mattinata, l'incontro con gli studenti presso l'Iceo Marconi, dove Patrick ha parlato ai giovani, di lui, del futuro, ma anche dell'attualità. Sì, questa mattina sono stato a scuola a Pesaro ed è stato straordinario. Uno dei miei primi obiettivi da quando sono stato rilasciato è stato proprio quello di visitare quante più scuole italiane possibili per condividere con gli studenti le basi dei diritti umani e civili e sono rimasto molto impressionato dal loro livello intellettuale, dalla loro conoscenza, in particolare dei diritti umani e anche dalla loro consapevolezza. Sono state circa due ore di dialogo molto intenso e fondamentalmente il mio messaggio è stato riguardo a quello che sta succedendo oggigiorno. A un certo punto ho dato parola a loro e loro si sono anche espressi con paura rispetto ai fatti recenti italiani delle cariche contro gli studenti e quindi io ho raccomandato a loro di continuare a fare tanto rumore e di non avere paura di esprimere le proprie opinioni. Credo che questo messaggio sia arrivato chiaro e forte e ho visto che loro sono stati molto felici di incontrarmi così come io sono stato felice di incontrare loro. Un libro che racconta la sua storia, la sua detenzione, la sua libertà, tra parole di denuncia e di speranza, tra riflessioni su ciò che gli è accaduto e ciò che accade ad altri. Il libro di Patrick Zaki è un messaggio per tutti i suoi lettori. Il libro fondamentalmente parla, è una mia testimonianza di quello che mi è successo all'interno della prigione e parla proprio delle grandi difficoltà affrontate nelle prigioni egiziane. Naturalmente moltissime persone sono state curiose in questo periodo e mi hanno chiesto ma com'è viverlo da dentro, come si passa una giornata, come si fa a non impazzire e anche come si fa a mantenere la speranza. E quindi questo è quello che io cerco di raccontare. C'è poi anche una parte di attivismo in questo mio libro che è rivolta soprattutto ai miei colleghi che sono ancora dentro e anche ad altri prigionieri. Quindi in definitiva si tratta di un libro sia di testimonianza sia di supporto per le persone ancora in prigione. In realtà onestamente non c'è una parte del libro a cui sono più legato perché si tratta veramente dei più difficili due anni della mia vita e di questo racconto, quindi non riesco a sceglierne un solo frammento. La cosa che però sento più fortemente è il mio dovere verso i miei colleghi e in qualche modo mi sento in colpa per il fatto che loro siano ancora lì dentro. Quindi se c'è qualcosa a cui sono legato è proprio il motivo, il senso di questo mio libro e anche un po' il senso di colpa anche perché da fuori io sto facendo tutto quello che posso però loro sono ancora lì. Fondamentalmente passo le mie giornate guardando immagini che vengono dalla Palestina. Mi sento molto male, in particolare mi sento malissimo rispetto al silenzio che c'è sull'uccisione di civili palestinesi e sul genocidio che sta avvenendo. sarei molto egoista se dicessi di stare bene. Poi è chiaro che sono qui in Italia, sono felice, incontro persone che mi vogliono bene, che mi hanno supportato e apprezzo tutta questa generosità. Di tanto in tanto rubo qualche secondo di gioia per me stesso però in generale sarò felice soltanto nel momento in cui ci saranno cessate il fuoco. Grazie. 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 Grazie.